Allora, iniziamo oggi la nuova stagione di Wide Art con un nuovo logo e abbiamo rinnovato un po' la grafica per cui abbiamo un marchio registrato adesso e speriamo appunto che finalmente si possa continuare con la stagione per tutta la stagione come l'anno scorso che siamo rimasti interrotti Iniziamo con Silvia Stefanelli e le sue bellissime foto e partiamo adesso, continuiamo qua come base operativa come postazione proprio nostra classica di Wide Art e poi a dicembre avremo una novità bellissima che aspetta di essere rivelata ma per il momento appunto è un segreto quindi se ne sa proprio avanti Grazie